eravamo con te quando hai iniziato il tuo viaggio eravamo con te quando hai deciso di provare a realizzare i tuoi sogni abbiamo dato forza al tuo impegno e insieme a te guardato il mondo con un sorriso eravamo con te quando il loro futuro è diventato la cosa più importante siamo diventati grandi insieme e adesso il nostro compito è aiutarti a proteggere tutto questo capitale umano il nuovo prodotto di protezione di banca mediolanum pensato per offrire una tutela alla persona e alla famiglia in caso di infortuni o malattie tutto in un unico servizio interamente personalizzabile in base alle esigenze e coperture scelte con il cliente e da oggi grazie alla nuova piattaforma protection easy tool sottoscrivibile anche in firma digitale con una copertura attiva fin da subito capitale umano proteggi il tuo valore ciao a tutti Grazie a tutti.